Com'è andato il pisolino? Tutto bene? Avete dormito bene? Belli riposati? Il pisolino della Virtus, ragazzi, è una cosa che non manca mai, mai, non c'è versi, non c'è versi. Eri in vantaggio, sostanzioso vantaggio, è che di fronte non hai proprio i primi scappati di casa, ma il terzo quarto, ma dove eravamo? No, dove eravate? Perché io lo so dove ero, ero a guardare a voi che dormivate. Mi dispiace, mi dispiace, perché una partita che poteva dare una continuità di vittoria, la prima ne hai perso, la seconda la vinci. Potevi essere in continuità, poi adesso è un periodo dove si giocherà molto. Niente, niente, cosa devo dire? Cosa devo dire? Chi più chi meno, per carità, Teodosic, ancora si vede che non è al massimo, ha iniziato bene, ma poi alla fine troppi errori, anche lui si è preso un tiro da tre sul finale che solo lui poteva avere anche il coraggio, ovviamente, la personalità di prendersi, e l'ha sbagliato. Tanti passaggi magici che vede solo lui, però che non sono trasformati in punti. Beh, lì chiaramente poi sta a chi tira. Però, sì, insomma, non al 100%. JT, nonostante un piccino o qualcosina di buono l'hai fatto, è ora che ti svegli. Baco, facciamo che non parlo, e Cordinier, molto deluso da Isaia stasera, è una partita difficile, però tante volte ha avuto spazio, ha avuto modo di fare qualcosa, ma non ha inciso. Miki, non male, non male Miki stasera. Kyle Wins, fortuna che ci sei tu, ogni tanto ci ha provato in tutte le maniere. E poi gli altri normali, normali, Paiola normale, Ljungberg male all'inizio, poi si è ripreso e è cresciuto durante la partita, quindi fai poggio e buca. È normale, insomma, oggi è un pochino più di normale, ma hai buttato una partita, hai buttato una partita. E anche il coach, Scariolo, chiaramente ogni time out era lì che disegnava, che faceva cose, ma soprattutto nel finale di partita, quei disegni, oh, non lo so cosa l'ha disegnato, sicuramente non dei palloni persi, sicuramente non delle occasioni buttate. Una squadra che quest'anno, veramente, se non ti fa tribolare non è contenta. Cioè, adesso salvo l'ultima di campionato, per esempio, dove però, insomma, eri anche tenuto a vincere in maniera tranquilla. Per il resto è sofferenza, è sudare, è prendersi gli accidenti, mandare accidenti. E purtroppo, certo, a botta calda, rode parecchio. Perché non solo era, diciamo, una partita che si poteva vincere con una certa tranquillità, per quanto, appunto, lo Dalgiris ovviamente avrebbe poi fatto forza sulla sua grassa pressione, su comunque una tecnica, un valore tecnico importante, ma che potevi anche recuperare, potevi recuperare. E no, e invece no, e invece no. E invece no, è andata a finire qui. Grosso, grosso peccato. Veramente un grosso peccato. Avevo iniziato quest'anno dicendo quest'anno segna anche mia nonna. Cioè, la Virtus dava l'impressione, e la dà tuttora, ogni tanto. Non è che è sparita del tutto questa cosa, di poter essere una squadra che produce molto. Però quest'anno in particolare, sto notando, almeno finora, tante palle perse, tante occasioni buttate, tanti momenti in cui girano, 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 corrono, però si perdono. Si perdono, non sanno che passarla. Vedi Hackett che, tante volte, poverino fa così, Paiola che fa così, con quel pallone, girano, misaia, corrono da una parte all'altra, Bellinelli che gioca magari, ovviamente, diciamo, l'età comincia ad avanzare, gioca magari un po' meno, però quando gioca, a volte trova spazi, a volte è costretto ad andare a quei tiri, a quei passaggi fuori equilibrio, per i quali è famoso, per carità, però vuol dire che è una soluzione un po' estrema, questi tiri forzati, a volte, a volte no, a volte è un rullo compressore, a volte la squadra parte, segna e picchia sodo. È discontinua questa squadra, è discontinua, non è scarsa, perché non è scarsa, non abbiamo degli scarponica, è discontinua. E questo ovviamente mi dispiace, ma per forza, cioè, quando hai questa potenzialità e poi vedi che viene usata in questa maniera, insomma, un attimo ti prende male. E poi perdere una partita dove gli ultimi 30 secondi durano 5 minuti a forza di falli, palle perse, palla 2, addirittura c'è stata, proprio agli sgoccioli. Quando è così, sei sempre lì col fiato sospeso, ovviamente, come ti fa Virtus, anche gli altri sono stati col fiato sospeso, per carità. Peccato, peccato, perché era molto importante vincere la stasera, tanti hanno giocato male, tanti comunque male. male per la Virtus, a parte alcune eccezioni, male per la Virtus, significa non al livello che ti aspetti, ovviamente. Comunque, testa alla prossima, come si suol dire, giusto così, alla Virtus, sapete cosa serve? Una sveglia, non ce l'ho portata di mano, una sveglia, una sveglia che tu la metti, e quando suona, di solito il terzo quarto, suona, suona, quando inizia il terzo quarto, gli sveglia dal torpore, perché c'è sempre quel pisolino, che stasera si è rivelato mortale. Va bene, ciao ragazzi, alla prossima. Grazie.